Lazio-Inter 1-1 e oggi facciamo le pagelle. È stata una partita, devo dire, bruttina, però le pagelle vanno fatte soprattutto in partite come queste per capire qualcosa in più, per avere uno spunto, così, per fare qualche riflessione, qualche analisi, per capire cosa non è andato. Infatti i voti non saranno particolarmente positivi, c'è qualche buon voto, c'è anche un 7, ma c'è anche un 4,5 e adesso vediamo di chi è. Partiamo con Andanovic però, che prende già un'insufficienza perché gli dà un 5,5, ha fatto due buone parate, però ha delle responsabilità sul gol di Savic e quindi il suo voto non può che risentirne. È vero, il cross era dall'altra parte e andava sul secondo palo, ma Andanovic aveva il tempo di riprendere un attimo la posizione e il colpo di Savic era praticamente lungolinea, cioè era sul fondo, quindi lo specchio di porta possibile era veramente stretto stretto e quello era di Andanovic, ecco, ha preso un po' un gol, forse, dove poteva fare qualcosa di più. Skriniar, 6,5, invece lui mi è piaciuto perché, è vero, non è stato messo sotto pressione in maniera enorme durante la partita, però la sua partita è stata perfetta, non ha sbagliato nulla e in quelle due occasioni dove ha dovuto fare qualcosa di importante l'ha fatto, ha fatto delle buone coperture, era anche voglioso di proporsi in avanti quelle poche volte che si poteva fare e quindi la sua partita è stata buona. Ad Evraido un 6 più, è stato concentrato e anche preciso, devo dire, in difesa per quanto riguarda gli interventi da fare a livello difensivo. Quello che gli manca un pizzico, non so se lo vedete anche voi, è riprendersi un pochino quel ruolo da regista difensivo. Gestisce pochi palloni, quelli che gestisce li gestisce in maniera abbastanza blanda, lo potrebbe fare quasi anche Ranocchia, e quelle due volte che cerca un lancio in profondità, una palla dietro la linea, eccetera, eccetera, spesso sono lanci che non vanno a segno, cioè vanno proprio sbagliati, 10 metri, palla agli avversari. Quindi questa è l'unica cosa che gli manca un po' per tornare il devrai migliore, secondo me. 6 più anche per Bastoni, che ha fatto un'ottima partita, molto solida, di personalità, come al solito, mi è piaciuto molto sia in fase di copertura, quindi quando c'è da coprire, quando c'è da marcare, quando c'è da fare anche qualche azione difensiva, così, e anche nell'impostare, ma oltre all'impostare è anche nell'avanzare, no, palla al piede, eccetera. Gli do qualcosa in meno rispetto a un 7 meno che forse si meriterebbe, perché l'inserimento di Savic era anche suo. Diciamo che il gol di Savic è frutto di una serie di cose sbagliate, sia individuali, sia tattiche. Però c'entra anche Bastoni, perché una volta che Savic arriva in area così, e non può arrivare in area così Savic, ma se arriva in area, la marcatura era sua, perché Perisic aveva Lazzari ed era già in copertura, Perisic si è trovato tra due uomini, quindi Bastoni doveva prendersi Savic. E forse era l'unico anche Bastoni che poteva contrastare Savic, almeno sul discorso dell'altezza e sulla palla aerea. E invece è rimasto a guardare, questa cosa l'abbiamo pagata. A Kimi lo premio con un 6,5, anche se di per sé non ha chi abbia fatto una partita molto vistosa. È stato molto diligente, però non butta mai un pallone, la partita secondo me è buona da parte sua. Il problema è che i compagni non l'hanno praticamente mai servito, e questo è un colpo a un po' di compagni, perché in due o tre occasioni c'era la possibilità. A Kimi ha fatto i movimenti, era in partita, è tornato quando doveva tornare, ha coperto quando ha dovuto coprire, si è proposto due o tre volte in maniera molto interessante sfuggendo sulla fascia destra. Una volta Barella, per esempio, che poi va a subire fallo e va bene, però poteva lanciare a Kimi e sarebbe stato da solo contro il portiere, considerando la sua velocità. Invece nulla. Quindi io lui lo premio. Non è che abbia fatto una grande partita, ma non per causa sua. Devo dire che anche Conte però ha delle responsabilità, ma poi ci arriviamo. Intanto do un 6,5 da Kimi. Vidal, 7, è il miglior voto dell'Inter per quanto mi riguarda. Ottima presenza a centrocampo, personalità e anche, devo dire, sostanza. Ma anche qualità, in realtà. Non è che aveva fatto solo una partita di quantità o altro. Si è abbassato molte volte a prendere palla, era quello che gli chiedeva Conte, l'ha fatto. Poi bisogna capire se questa cosa, se avere Vidal lì dietro veramente ha pagato o se non servisse averlo magari in mezzo al campo, un po' più avanti tra le linee, ma questo è un altro aspetto, un aspetto tattico. Ma Vidal il ruolo che gli è stato richiesto, lui l'ha eseguito e l'ha fatto bene. Ecco, questo è il punto. Quindi il giudizio lo si dà su questo. Poi bisogna dire che però, ecco, gli unici due titolari al momento al centrocampo mi sembrano effettivamente solo Vidal e Barella. Non c'è la quadra. Cioè, a parte la buona prestazione sua individuale, a centrocampo, secondo me, dobbiamo ancora trovare la formazione ideale. Barella, vi dicevo, che secondo me è l'altro titolare al centrocampo. Ieri ha fatto una partita da sei, io gli do sei, sufficienza, perché ha giocato da trequartista, è stato meno dentro la partita per questo motivo qua. È un peccato perché Barella, secondo me, un po' come anche Vidal, deve stare in mezzo al campo. Deve essere preso costantemente dentro al gioco, deve toccare palloni, deve essere nelle situazioni, nei contrasti, nelle palle di mezzo, nei rimpalli, così, nello sporco. È lì che si esaltano, secondo me, Vidal e Barella, per quantità, per tenacia, per carisma, per personalità, uno per esperienza, l'altro per foga. Comunque, li voglio in mezzo al campo, come interni o come mezzeali. Quindi, sì, anche qua, ripeto, secondo me, Barella è un titolare del centrocampo dell'Inter. Ieri non ha fatto una grandissima partita, ma non a causa sua, ecco. Arriviamo a Gagliardini, 5 e mezzo. Le grandi sfide non fanno per lui. Non capirlo è grave, secondo me, perché è ormai quattro anni, tre anni, che abbiamo Gagliardini, lo conosciamo, sappiamo che è un buon calciatore, ma pecca di personalità. E in alcune partite fa fatica, fa fatica. L'abbiamo visto anche in finale, ok, di Europa League. Sì, lo so, dà fastidio sentirlo dire finale di Europa League e saper di averla persa, ma è giusto ricordarsi le cose. E Gagliardini non l'ha fatto bene neanche lì. Ecco, nei big match viene un po' a mancare. Invece si esalta quando è molto più sereno, vengono fuori le sue qualità e fa bene, magari contro le piccole, le medie, lì fa bene, fa anche gol, fa bene i salimenti, eccetera, eccetera. Conte l'ha schierato, secondo me, perché c'era Savic, quindi per avere fisicità, centimetri, eccetera, eccetera. Però, allora glielo metta a uomo. Non ha senso che, dico, ah vabbè, c'è Savic nella Lazio, vabbè, metto in campo Gagliardini da qualche parte, come se sulla carta contassero i centimetri totali delle squadre, bombe, c'è anche un Gagliardini da qualche parte, quindi faccio pari. Ecco, no, devi metterlo a uomo su Savic, se vuoi che contrasti Savic, altrimenti Savic entra in area da solo, libero, e non serve a niente. Non può arrivare Savic da solo in area non marcato, perché quando ti arriva un uomo in area con la forza, il movimento dinamico, è molto più avvantaggiato rispetto al difensore che se lo trova venire ed è fermo. Quindi il Perisic, il Bastoni, partirà sempre in svantaggio in certe situazioni, in certe situazioni del genere. Ci voleva Gagliardini sull'uomo, ma allora a quel punto lì bisognava cambiare la disposizione, ma, ripeto, ne parliamo quando arriviamo a Conte. Perisic, altro 5,5. Il gol subito non è colpa sua, non avevo dubbi che qualche allocco della carta stampata o anche del web l'avrebbe usato per, così, per crocifiggerlo, dato questo episodio del gol. Nessuno si ricorda però che il gol nostro viene da una sua percussione, ieri l'ha ricordato anche Conte, ha fornito quattro palloni ottimi in area che poi non sono stati finalizzati perché Lautaro e Lukaku ieri magari non erano in giornata e poi lo vediamo. Paga, è vero che paga un po' su Lazzari, infatti il mio voto negativo, insufficiente, è perché ha pagato un po' su Lazzari il primo tempo, però non è tutta colpa di Perisic, perché c'è un discorso tattico da fare lì. E, ripeto, lo affrontiamo su Conte, ecco. Però bisogna saper scindere le cose. Perisic, di per sé, come prestazione individuale, ieri non è che abbia fatto un disastro. Non ha brillato, è stata una partita insufficiente, ma non gravemente insufficiente. E sul gol poteva fare pochissimo. Non aveva possibilità. Ha saltato il massimo che poteva, non ci è arrivato, non ha proprio neanche colpito la palla, cioè la palla era 5 centimetri sopra di lui, quindi anche avesse fatto uno sforzo ulteriore, comunque non c'era. Savic, ragazzi, è un giocatore quasi immarcabile su queste situazioni qua. Se poi ti arriva libero in area, se poi ti arriva su quello che, e viene marcato da quello che non è il suo uomo di riferimento, perché doveva prenderlo a bastoni, quindi Perisic era su Lazzari e doveva preoccuparsi di Lazzari, e già tanto che Perisic sia andato a saltare su Savic e l'abbia preso mollando il suo uomo, perché non c'era nessuno se no. Ah, era da solo Savic e non ne è potuto arrivarci. Savic è 1,95, ha uno stacco pazzesco, il tempismo sul gioco di testa è il suo forte, cioè, ripeto sempre, è un vessino super saian, è un vessino migliorato. E quello è quello che sa fare meglio, e non è che sia proprio semplicissimo. Quindi cosa vogliamo dire a Perisic sul gol? Lo crocifiggiamo per il gol, dove non è colpa, diciamo invece che magari deve migliorare in fase difensiva su alcuni posizionamenti, quello magari ha più senso, però non è che abbia fatto uno schifo ieri, cioè, Lazzari è andato via due volte a Gagliardini, è andato via una volta perché Perisic era in scalata in pressing davanti e dietro non c'era la scalata giusta, poi Lazzari è stato anche bravo due o tre volte a partire, ma come è stato bravo a partire il nostro Hakimi, il problema è che noi non l'abbiamo servito, Lazzari invece è stato servito. Insomma, bisogna leggere le cose in maniera un po' più approfondita, altrimenti non si fanno punti, c'è poco da fare. E lui quando ha delle occasioni, molto spesso le butta via, così le getta, non le sfrutta, ecco. Ha giocato 48 minuti, voglio ricordarlo, 48 minuti contro Parolo centrale e contro una difesa della Lazio rimaneggiatissima. Quindi io mi aspettavo che, non so, che nel secondo tempo potesse far la differenza, potesse demolire la difesa della Lazio. Ragazzi, Lukaku contro Parolo ha i 15 centimetri di differenza, 25 chili di differenza, lui è anche fuori ruolo, perché Parolo non è un difessore centrale, è un centrocampista, è una mezzala, figuriamoci. Chiaramente con l'esperienza può fare anche quel ruolo lì, però, insomma, l'abbiamo visto, appena entrato in campo, Parolo ha preso due infilate clamorose, quindi mi aspettavo che Lukaku dicesse benissimo, ci gioco contro, mi appoggio sempre su di lui, lo faccio fuori ogni volta, anche fisicamente, e invece nulla, è scomparso. Lautaro Martinez, partita simile, gli do un 6 più a Lautaro perché ha fatto il gol, è il gol, conta sempre, è importante, l'ha fatto anche di rapina, di voglia, quindi è giusto premiarlo, non è un gol a caso. Per il resto, però, non ha fatto nulla, non è stato in partita, troppi palloni persi, soprattutto nel primo tempo, devo dire, malamente, in maniera, come se non fosse mentalmente connesso, di solito non sbaglia con gli agganci lì, invece ieri l'ha fatto, quindi gli do un 6 più, ma per il gol, sennò sarebbe anche lui un 5 e mezzo, un'insufficienza, così. Sensi, 5 e mezzo, entra e non incide, sull'episodio, devo dire che è stato poco lucido, è grave, perché era appena entrato in campo, quindi era fresco, era riposato, e si è lasciato andare, insomma, un gesto di reazione un po' così. C'è da dire che l'espulsione è ridicola, è ridicola, cioè, senza sbagliato a lasciarsi trascinare, vabbè, però comunque quella roba lì non è un'espulsione. Cioè, io l'ho rivista, ho rivisto anche il video, e mi fa ridere che quello lì sia un rosso, francamente. Comunque, non è che abbia fatto molto altro, non è che abbia inciso, abbia fatto dei bei passaggi, delle cose, ha giocato poco, e quel poco non è che ha fatto molto. Yang 6, entra per dare più solidità alla fascia sinistra, ma non riesce molto ad incidere. Per carità, ha fatto due o tre buone sgroppate, ma nulla di che, con quel suo sei politico, se lo porta a casa. E per finire, Brozovic, perché Sanchez e D'Ambrosio, per me sono senza voto, Brozovic 5,5, non è un giocatore da subentro. Ogni volta che lui entra dalla panchina, non rende, mai, è sempre stato così, è sempre stato così. infatti lui ha cominciato a rendere nell'Inter, quando è stato messo un po' al centro del progetto, gli si è dato un po' di fiducia, e ha cominciato da titolare più di qualche volta, e si è un po' preso così. Si vede che è un giocatore che tatticamente fa fatica a entrare, a mettersi in mood di partita, a leggerla, quindi o inizia, e allora c'è, perché concentrato si inizia dopo, è come se non avesse soglia dell'attenzione, e non fa molto. In ogni caso, ha preso un palo ieri, è stato anche sfortunato. Arriviamo a Conte. Non avete visto il 4,5, non perché me lo sono dimenticato, o perché vi ho truffati, ma perché il 4,5 è di Conte. Con il senno di poi, Gaglia non ci stava, ma i dubbi li avevamo anche col senno di prima, perché chi ha visto, e chi era con noi in live ieri, prima della partita, insomma, quando ho letto Gagliardini, sono rimasto 15 secondi a pensare, poi ho detto, vabbè, l'avrà scelto per Savic, vedremo, ecco, però il problema è che poi non l'ha messo su Savic, e quindi viene a cadere anche questa, questa giustificazione qua, Gaglia ieri magari non ci stava, per il tenore della partita, ma a parte questo, non vuole essere una critica solo su un giocatore, il 4, il 3,4,1,2, si è, si è rivelato inefficace ieri, non liberava i nostri esterni, fondamentalmente, che erano marcati dai loro quinti, e erano raddoppiati dalle loro mezziali, perché loro giocavano con un 3,5,2, tutto sommato, un 3,5,1,1, quindi avevano le loro mezziali, in copertura molto bene, in raddoppio sui nostri esterni, e avevano però le loro mezziali in fase offensiva, libere di scorrazzare, di inserirsi, sia in strade esterne, sia dentro l'area, Savic dentro l'area, e Luis Alberto invece, due o tre volte è partito, tra le linee, così, verso l'esterno, e questa cosa l'abbiamo vista più volte, ed è stata una spina nel fianco per tutta la partita, le nostre mezziali invece non esistevano, perché noi abbiamo giocato con un 3,4,1,2, due mediani bassi, e un trequartista su Leiva, per carità Leiva l'hai un po' così, l'hai un po' bloccato, ma capisco che tu giochi per bloccare il loro regista, il loro flusso di gioco, se è l'unico forte della squadra, ma le vere pedine forti del centrocampo della Lazio, per carità Leiva si difende bene, ma sono proprio Savic e Luis Alberto, allora non puoi concentrarti su Leiva, che dici blocco il gioco, metto lì barella, e poi lasci scorazzare Liberi Savic e Luis Alberto, perché è controproducente, come abbiamo visto, sia per il gioco, perché comunque Luis Alberto è anche un regista, quindi viene a meno Leiva, vabbè c'è Luis Alberto, e poi Savic perché ha una fisicità e una forza incredibili che non puoi facilmente contrastare, quindi fallimentare questo, e anche per quanto riguarda noi, non aver avuto delle mezziali, perché non si giocava con il centrocampo a tre, ma a due, non ti ha permesso di liberare, i tuoi esterni, perché non ne avevano supporto, quindi erano marcabilissimi, ed erano o in parità numerica, o in inferiorità numerica, quindi non riuscivano a sfondare, ce l'ha fatta qualche volta Perisic, però infatti non andando sul fondo, ma rientrando, così ce l'ha fatta Perisic, ma anche Akhimi una volta due, ce l'ha fatta rientrando, infatti ha tirato anche in porta, ma di sinistro, proprio perché non avevano la possibilità, di andare sul fondo, ecco, e questa cosa, insomma, questo è un po' il concetto, e ieri non abbiamo funzionato come preparazione, come gestione, e tatticamente Inzaghi ci ha surclassati, oltre a questo, un'altra botta che tira giù dal 5 a un 4 e mezzo, il voto, è che non puoi essere 11 contro 10, perché c'è l'espulsione di Immobile, e rimanere attendista, e poi oltre che attendista, invece di azzannare l'avversario, addirittura conservatore, quando fai il cambio, metti dentro D'Ambrosio, metti la difesa a 3, metti Young al posto di Pericic, quindi quasi ti difendi, in un certo senso, o comunque conservi l'assetto, bisognava azzannare, bisognava, cioè, quando hai Eriksen in panchina, potevi tenere magari Sanchez, metterlo a trequartista, non so, potevi fare varie cose, non lo so, invece ci siamo trattenuti, e poi l'abbiamo presa, perché poi la partita è calda, quindi basta un attimo, l'arbitro è scemo, e quindi parità numerica, e poi non hai più fatto nulla, questo è stato un, insomma, non ha avuto senso, anche perché la Lazio, quando è uscito immobile, non è che si è ridisegnata in campo, ha giocato con un 3-5-1, quindi un attaccante contro tre difensori, non ha senso, non ha senso, la regola è sempre, che per ogni attaccante, c'è bisogno di avere magari, un difensore più un bonus, quindi, se hai due attaccanti, gli avversari, è top avere tre difensori, ok? Se hanno tre attaccanti, magari sarebbe top avere quattro difensori, è una regola un po' così, da prendere a spanne, poi dipende dai movimenti, tutto quanto, però, se c'è un attaccante, non ha senso avere tre difensori, tra l'altro, un perno centrale, e due laterali, quindi se, non ha senso, è meglio averne due, no? Uno, più marcatore, e l'altro in copertura, così l'attaccante, non ce la fa, fa fatica, se poi addirittura, tu passi a un 4-3-1-2, hai un marcatore, uno in copertura, e poi anche il perno centrale, davanti alla difesa, che fa da filtro, così, potevi fare, alla fine, non dall'inizio, ehi, non solo per dire, cambiamo modulo, difesa 4, l'interno va bene, eccetera, eccetera, si continui col 3-5-2, col 3-4-1-2, dipende anche dai giocatori, se c'è Ericsson, Sainz, eccetera, eccetera, ma, ma, se c'è l'occasione della partita, perché sei in superiorità, eccetera, eccetera, devi avere la capacità di leggere la situazione, e di colpire l'avversario dove ha male, cioè, hanno un uomo in meno, colpisci il fatto che hanno un uomo in meno, e quindi porta su un uomo, no? Creati la superiorità numerica, portatela avanti la superiorità numerica, vabbè, questo è tutto, quindi 4-5 sulla becca a Conte, e dite quello che pensate, lasciate un commento, un like, e ci vediamo prestissimo, per le nuove notizie che ci saranno da commentare, o partite. Ciao ragazzi, forza Inter!